L'annuncio dell'amministratore apostolico Monsignor Beniamino Pizziol è arrivato a mezzogiorno in punto. Sua eccellenza Francesco Moraglia, attuale vescovo della diocesi di La Spezia, Sarzane Brugnato, è stato eletto 48esimo Patriarca di Venezia. La nomina, disposta da Papa Benedetto XVI, era nell'aria da giorni, ora l'ufficialità. Francesco Moraglia, 58 anni, genovese, ha frequentato il seminario nel capoluogo Ligure, ricevendo l'ordinazione sacerdotale nel giugno del 1977. Ha poi proseguito gli studi a Roma presso la Pontificia Università, conseguendo il dottorato in teologia dogmatica nel 1981. Nel suo ministero il ruolo di educatore presso il seminario Arci Vescovile Maggiore a Genova e di vice parroco in una chiesa del centro cittadino. Insegnante di teologia dogmatica presso la facoltà teologica dell'Italia settentrionale, è stato preside presso l'istituto di scienze religiose Ligure. È assistente diocesano del MEIC, per poi dirigere l'ufficio diocesano per la cultura e il centro studi di Dascaleion. Membro del consiglio presbiterale del capitolo, nel dicembre del 2007 è stato eletto alla sede Vescovile dell'estremo Levante Ligure, ricevendo l'ordinazione episcopale il 3 febbraio 2008. Ora per lui la massima carica religiosa nel patriarcato di Venezia, ricoperta in passato da Angelo Roncalli, il santo padre Giovanni XXIII, pontefice dal 1958 al 63, è soprannominato il Papa Buono.